Potrebbe esserci una storia di bullismo dietro la sparatoria nella scuola di Helsinki, costata la vita un ragazzo e il ferimento di altre due studentesse. Secondo la polizia finlandese, il 12enne che avrebbe esploso i colpi sarebbe stato bullizzato dai suoi coetanei. Lo avrebbe confessato ai funzionari dopo essere stato fermato nella zona di Siltamaki, a quasi 4 chilometri dal luogo della sparatoria. Ero il testo, così si stavo like un fattore, ma hoendoci proprio fattere i confecconti sulla sera, è troppo stricato il corsoia". Ero un pocato. È certo che si è rullato meglio quanto la swascina, perché non sono arrivato e stavo assoluto da Tikkuraskunquea. È stato un proveniente da sotto, e quindi ci sono davvero 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 sicuremente di aiutare la sua stessa situa. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e tentato omicidio Tuttavia a causa della sua età lo studente non può essere ritenuto penalmente responsabile Ed è stato affidato ai servizi sociali La polizia ha anche confermato che la pistola usata nella sparatoria era di proprietà di un parente del ragazzo